Una produzione vitivinicola sempre più sostenibile. Il Consorzio di tutela del Prosecco Conegliano-Valdobiadene di OCG spinge sulla compatibilità con l'ambiente e la riduzione dei fitofarmaci. L'organismo, che riunisce 168 cantine di imbottigliamento e 3.000 viticoltori, rafforza il protocollo sull'uso dei trattamenti. Dopo due anni di sperimentazione, per quest'anno il Consorzio depennerà dalla lista dei prodotti consigliati ai propri aderenti un'ulteriore quota. Rimarranno così solo 42 sostanze su circa 100. Si tratta, è bene ricordarlo, di prodotti comunque consentiti dal Ministero della Salute, ma sulle colline di Conegliano e Valdobiadene hanno deciso di adottare regole ancora più stringenti in nome della qualità del vino. Il protocollo prevede, consiglia, indica, raccomanda l'uso solo delle prime due categorie, i prodotti non classificati in termini di tossicità e i prodotti che sono considerati irritanti, quindi non i tossici, non i molto tossici e così via. Questo è ciò che consigliamo nel nostro protocollo. Quindi ci sono cinque categorie, cinque classi di prodotto. Le prime due sono le più tossiche, completamente eliminate dal nostro protocollo. La terza categoria è stata eliminata all'80%, perché all'interno della terza categoria ci sono dei formulati che teoricamente possono dare dei danni permanenti all'uomo. Tutti quei prodotti sono stati eliminati dalle raccomandazioni di uso per il 2013. Nel 2012 il protocollo è stato applicato su 600 ettari di vigneto, circa il 10% dell'intera superficie evitata della DOCG. Per l'anno in corso si punta a raddoppiare e l'obiettivo finale è quello di inserire queste prescrizioni nelle regole generali di produzione. Il Conegliano Valdobiadene Superiore conta su 70 milioni di bottiglie per un giro d'affari intorno ai 430 milioni di euro. Il protocollo non è l'unico progetto avviato dal consorzio. Sempre in tema di salubrità, con l'Università di Padova si sta sperimentando un nuovo sistema di erorazione tramite un apposito apparecchio fisso che spruzzerà una sorta di aerosol sulle piante, evitando dispersioni e consentendo di ridurre l'utilizzo dell'elicottero. E si stanno studiando anche modelli per prevenire gli attacchi dei funghi, in modo da limitare all'indispensabile i trattamenti. E' stato effettuato infine un censimento delle specie erbacee presenti tra i vigneti. Oltre 850 essenze diverse a riprova di una ricca biodiversità da preservare. L'obiettivo sia quello di produrre un prosecco superiore di Conegliano Valdobiadene di eccellenza e soprattutto che si creino le condizioni di convivenza tra cittadini e viticoltori, cosa che deve rendere un territorio veramente appetibile per il mondo intero, considerato che il prosecco superiore è venduto in 80 paesi del mondo. Proprio perché crediamo che con la ricerca e soprattutto con dei progetti seri, non con chiacchiere, si possa superare quelle che sono le problematiche legate alla deriva dei prodotti chimici.